Dopo la bufala dell'annunciato accordo tra Regione ed ATM per pagare gli stipendi arretrati da luglio agli autisti e agli altri dipendenti, mai veramente sottoscritto da tutte le parti e dunque risultato assolutamente nullo ed inefficace, si torna all'azione di protesta e alla richiesta di una soluzione che sempre più tarda a venire. Così continua il presidio dei dipendenti di ATM ma anche di altre aziende del trasporto pubblico locale che lamentano gli stessi ritardi nel liquidare le retribuzioni a dispregio di un lavoro che non viene pagato, adducendo questioni di denaro non dato dalle istituzioni. Una situazione sempre più difficile che dimostra una sorta di inefficienza economica di imprese che si muovono solo e soltanto gestendo denaro pubblico assolutamente fuori da una linea imprenditoriale che dovrebbe essere diversa e sicuramente in linea con la correttezza verso i lavoratori e nel rispetto dei loro sacrosanti diritti. Perciò continuano nel presidiare a Campobasso la sede del Consiglio regionale diventata di fatto simbolo di un sistema che allontana i cittadini da ogni tutela che sia in sintonia con le situazioni economiche, morali, sociali e culturali. I lavoratori affiancati dalle dirigenze di Faisa Cisal, Fit Cisle e Will Trasporti resteranno in presidio questa volta almeno fino al 23 dicembre. Grazie. 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 Grazie.